Ci aspettano tante novità e alcuni punti fermi che ci sono stati nelle edizioni scorse. Ovviamente parleremo tantissimo dell'Orlandina, ma faremo anche un punto generale su tutte le squadre del nostro comprensorio. Ci saranno, come sempre, gli ospiti durante la trasmissione e cercheremo di focalizzarci ovviamente sull'Orlandina e anche sul percorso europeo, però cercheremo di spaziare e tra le altre cose quest'anno cercheremo di coinvolgere un po' di più gli spettatori e i tifosi. Ci saranno tante novità anche sulla pagina di Facebook di Terzo Tempo.